E torniamo in onda con Decoder, ora andiamo al Museo Arte Tempo di Clusone dove sono stati inaugurati gli spazi permanenti dedicati al lavoro del fotografo Cesare Cristilli ma anche la mostra temporanea che sarà visitabile per i prossimi sei mesi. Sì, infatti inauguriamo una nuova sala permanente dedicata all'archivio fotografico Cristilli che fa parte del patrimonio del museo ma che non aveva ancora una collocazione adeguata per la sua valorizzazione. Quindi questo era un po' il sogno del museo che ha acquisito grazie alla volontà degli eredi di Cesare Cristilli questo cospicuo patrimonio fotografico. Sono migliaia di immagini che raccontano la storia di Clusone, raccontano l'evoluzione della società clusonese ma non solo di Clusone ma anche dei paesi limitrofi, raccontano l'evoluzione dei costumi, gli avvenimenti importanti, tutto quello che ha fatto appunto la storia del nostro paese per tutto un secolo. Perché lo studio fotografico è stato attivo dall'inizio del Novecento fino agli anni Novanta. Abbiamo approfittato di un bando promosso dalla fondazione Cariplo, il comune di Clusone ha partecipato insieme ad altri enti, ad altri comuni, musei della Val Seriana e grazie al finanziamento ottenuto è stato deciso di recuperare un'ala di Palazzo Marino Nibarca che era inagibile diciamo, quindi che è tra l'altro proprio adiacente al museo ma che non era utilizzabile come struttura. Quindi grazie a un importante intervento proprio di tipo conservativo sul palazzo è stata ricavata questa nuova ala che è stata collegata appunto al museo e dal 6 dicembre in poi, da domani in poi, sarà possibile conoscere appunto la storia di Cesare Cristilli e del suo lavoro, della sua arte. È una sala che racconta appunto la storia dello studio, è una sala dove è possibile vedere proiezioni, appunto vedere proiettate le immagini di questo fondo fotografico e inoltre c'è anche la possibilità attraverso un touchscreen di consultare le foto in modo diciamo autonomo, prendendosi anche tutto il tempo per gustarsi le emozioni che queste foto sanno dare e sanno suscitare. Quindi ci sono gli spazi permanenti ma c'è anche qualcosa di temporaneo. Sì, insieme all'ala nuova, permanente, inauguriamo anche una mostra dedicata sempre a Cesare Cristilli e al suo lavoro e alla storia dell'altopiano per tutto il Novecento. In realtà la mostra durerà sei mesi, quindi fino al 3 maggio, ma sarà scandita poi da una serie di eventi dedicati a grandi e piccini. Sono figlio di Cesare Cristilli, l'ultimo figlio di Cesare Cristilli. Come famiglia avete deciso di fare questa donazione? Sì, ho lanciato l'idea ai fratelli, i quali sono stati ben felici di dare l'assenso e di partecipare a questa donazione, che altrimenti tenendola in casa finisci con l'andare dispersa. E cosa si può vedere qui? Cos'è che avete donato principalmente? Principalmente ho donato fotografie e poi alcune apparecchiature, quelle che mi sono rimaste. Ecco, per cui questo ingranditore che vedete, che è un pezzo di primi Novecento. E' anche piuttosto raro ritrovarli ancora. Poi ho donato qualche macchina fotografica che c'è nella vetrinetta, quella grande 10-15 Reflex, fatta a mano nel 1920-30, in quel periodo lì, che è esposto sul cubo all'entrata della mostra. C'è qualcosa che vuole aggiungere? Quello che voglio e ci tengo a aggiungere, il ringraziamento, il ringraziamento, una riconoscenza notevole, per la signora Sonia, per Andrea e tutta la sua famiglia, perché stamattina sono qui impegnati all'estire della mostra. Vittorio Cristili, qui dietro c'è questa Reflex fatta a mano di cui mi parlava. Ma chi può dire qualcosa in più? Noi oggi siamo abituati a ben altri strumenti. E' una macchina fotografica Reflex, ovviamente fatta in maniera artigianale negli anni tra il 20 e il 30 del Novecento. E' anche piuttosto rara da vedersi. Ecco, ad esempio, questo flash, questa illuminazione. Il flash è un flash che funzionava o a lampadine con dentro il magnesio oppure con delle cartucce a magnesio. Nell'attuale momento c'è un portacartucce che al momento del contatto esplodeva e mandava una forte luce. Ecco, invece, per quanto riguarda la pellicola. A quel tempo cominciavano a essere cirullini in formato 6x9 e questa però è una macchina che può portare anche il 10-15 in film pack o con le lastre. il film pack era un sistema di un pacco di negativi fotografici su celluloide messi uno sopra l'altro. Quando si scattava la foto si toglieva e restava quello sotto ancora non esporto e si ripeteva un'altra foto. cominciava già a essere un progresso per la scorta di fotografie che si poteva portare la maneggiabilità della macchina è stato un progresso. E le lastre? Le lastre nel formato 10-15 o 9-12 al secondo 10 cm per 15. Ecco, ma rivedendo tutte queste fotografie tutte queste opere c'è un qualcosa che la emoziona c'è un qualcosa a cui è particolarmente legato che guarda con un certo affetto comunque l'opera di suo padre? Oddio le ho maneggiate tanto e tanto tempo che mi sono abituato a vederle. Ce n'è una magari che è più rappresentativa che potrebbe rappresentare meglio ancora di più il lavoro di suo padre? Sì di rappresentativa che probabilmente sono i notturni che i notturni a quell'epoca erano molto molto difficili da poter eseguire perché le pellicole avevano una sensibilità alla luce molto scarsa per cui bisognava dare pose lunghissime e poteva succedere come succede nel notturno lì dall'orologio che durante l'esposizione della fotografia è passato un'automobile l'automobile dal dottor Cassinelli una delle poche automobili di Cridone che aveva la clinica lì nei pressi della basilica e quindi ha lasciato la scia ha lasciato solo la scia luminosa quindi sono queste notturne che secondo lei sono le opere più difficili per sì erano le più difficili da eseguire le notturne per niente ce ne sono qui un paio e basta e per quanto riguarda quanto è stato fatto qui nel museo anche la ricostruzione dello studio su quello devo dire che è stato lodevolissimo l'opera e l'impegno sia di Zanoletti che è della signora Sonia che mi sono stupito anch'io dalla bellezza dalla bellezza e dalla qualità dell'esposizione sempre tra questi volti immortalati c'è ancora qualcuno di cui possiamo dire qualcosa? dunque ci sono le foto fatte quando è venuto Ferruccio Pari e Clusione in occasione del ventesimo della resistenza che si può vedere in queste foto Ferruccio Pari era Presidente della Repubblica che è poi diventato Presidente della Repubblica inoltre qui abbiamo Vabbè quando c'è stata la donazione del gonfalone al comune di Clusione ecco in queste cose sono ripresi l'onorevole Moro con l'autorità di Clusione questo è il sindaco di allora Baronchelli Eugenio Baronchelli questo è questo questo è l'avvocato Pellegrini e l'onorevole Moro dopo io non gli so dire questa è stata una foto del 24 del primo congresso eclistico in Clusione Zona Letta è curatore della mostra insieme a Sonia Trussardi ma parliamo di questa esposizione temporanea questa esposizione temporanea è del tutto particolare nel senso che abbiamo fatto una selezione tra le migliaia di immagini donate appunto della famiglia Cristiglia al Matt Muserto Tempo di Clusione e abbiamo diviso sostanzialmente in quattro tematiche quindi potrete visitando la mostra potete vedere appunto panorami di Clusione dintorni scorci e turismo d'epoque con delle immagini di luoghi che erano i luoghi di vacanza nei primi del novecento poi un'altra sezione riguarda appunto i ritratti che segnano un po' l'evoluzione proprio del costume cioè quindi il cambiamento proprio sia dell'abito che dello stile delle persone nel corso del ventesimo secolo un'altra sezione appunto riguarda i gruppi storici che riguardano la banda civica di Clusione ad esempio piuttosto che quella che era la festa degli emigranti la gita dei mutilati di in valle di Montisola insomma gruppi di persone che hanno rappresentato un'epoca tutta questa parte che ho spiegato finora diciamo così la parte più didascale che è più formale nel senso che appunto c'è un'impaginazione e un'incorniciatura rigorosa delle fotografie mentre invece questa che vedete alle mie spalle mentre insieme ad un altro pannello che riguarda appunto i fatti che hanno fatto notizia episodi e eventi a Clusone che hanno fatto notizia è disposta in maniera più giornalistica nel senso impaginata e rappresentata anche dal punto di vista della stampa delle immagini diversamente nel cuore appunto della sala una città che stilizza appunto il sale sceni di Clusone con alcune fotografie antiche del novecento e due parti dedicate alle botteghe e ai luoghi appunto di divertimento e di svago dell'epoca e un altro contesto particolare che abbiamo creato che è un meglio ricreato è quello appunto dello studio fotografico di Cesare Cristilli addirittura riproducendo fedelmente quello che era il fondale che lui utilizzava per ritrarre appunto i soggetti che poneva davanti all'obiettivo della sua macchina fotografica io ringrazio la direzione del MAT l'amministrazione comunale di Clusone per avermi dato questa opportunità di lavorare per questa mostra come curatore per la prima volta insieme a Sonia Trussardi e Vittorio Cristilli il mio grazie va anche alle persone che sono andate fisicamente da fare nei lavori manuali e nell'allestimento nella parte pratica dell'allestimento che sono appunto Gian Pietro Zanoletti Marco Cortiana Stefano Negroni Stefano Lorenzi e un grazie in più ancora va a Marco Giovanni Rosato e Pia Bendotti perché hanno avuto pazienza anche questa volta nel seguire nella secondaria i miei capricci per quanto concerne nell'allestimento della mostra ecco con questi spazi si vuole celebrare non solo una persona ma anche la storia di Clusone si partiamo dalla storia quindi effettivamente è un qualcosa di importante della nostra città del nostro altopiano quindi dagli anni dagli inizi del novecento andare in avanti ma di certo va fatto un ringraziamento particolare oltre che a chi ha curato la mostra alla fondazione Cariplo che ci ha dato una mano alla realizzazione di tutto quanto alla vicinanza all'amministrazione lasciatemelo definire all'artista maestro Cristilli che veramente ci fa vivere e rivivere dei momenti particolari per mia natura sono attratto da quello che è la storia clusonese la storia più recente clusonese e quindi trovo veramente necessario fare un invito a tutta la popolazione a tutta la cittadinanza anche alle persone che abitano nei nostri paesi vicini di venire a vedere quanta gioia c'è in queste fotografie quanta storia c'è in queste fotografie quanto sentimento esprimono queste fotografie veramente l'ho incontrato prima gli ho fatto un calorosissimo abbraccio perché è quello che ci lascia perché poi è una donazione che viene fatta al museo è un qualcosa di importante che è una donazione Grazie a tutti.